Bene ragazzi oggi andiamo avanti con A ogni due oggi perchè tanto non posso fare nient'altro Finchè il piccino mi si mette a posto quindi Allora Allora a quanto pare Quindi dobbiamo prendere sta chiave E devo trovare un modo per Ah forse intanto spostando Tutta la roba esterna Che si può spostare che lo sia C'è una buona cosa Cosa buona e gradita E adesso Allora Se faccio Così così Ragazzi cioè Non so la velocità No scherzo in verità mi mi hanno un po' guardato Mentre non c'era il video tranquilli Non su internet perchè non ho internet Intendo qui c'avevo pensato Di qua E' troppo buio non posso andare Però ce l'abbiamo La torcia era spenta e qui abbiamo usato la chiave Ragazzi eccolo Eccolo Takeshi Takeshi stai bene? Dove sono gli altri? Shivering in inglese sapete cosa vuol dire? Vuol dire tremare E quindi Trema Takeshi Trema Takeshi dove sono gli altri? Trema Che te te Takeshi dove vai? Ragazzi E' tornato Ah ho preso una batteria Ragazzi è tornato Ebbene si è tornato Quindi forse bisogna andare qua No allora forse bisogna combinare gli oggetti Olè ok Bastava fare un invio sulla batteria No invio Ed è arrivato la Oni Ed è arrivato la Oni Ed è arrivato la Oni Allora no aspetta qui questo è nironi Se Oni era demone blu Anche se era viola Il mostro Questo sarà demone grigio Mi sembrava grigio eh Ah Merda Smettila Eccolo 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 Qua E' arrivato a zero Cazzo Ok Ok Non è arrivato fin qua Forse Vi insegue per quel tempo che c'è scritto E poi quando scade Se cambiate stanza Non vi segue più Mentre se cambiate stanza Mentre Quel timer deve ancora arrivare a zero Vi insegue Vi segue comunque Ah Quella era una chiave Io ho fatto clic Ok 1F sarà First floor Per il primo piano Card Ah mi sta venendo il sospetto Che allora Quelle lì Non era una finestra Mera una porta Tipo a vetri Per cui ci vuole una chiave Una tessera magnetica Un pene di gomma Qualcosa del genere Ah per te Stefano The third can Key Quindi c'è un cazzo No Qua E' chiusa Sta a vedere che Ora mi spunta da Da una porta E vuolo come una Donna in calore Comunque Proprio una donna In calore Proprio L'espressione idiomatica Più azzeccata Del mondo Questa è L'ultima E vaffanculo Questi tavoli Si possono spostare Di qua Allora di qua Di qua Vaffanculo Lo stesso Niente E allora E allora E allora E possiamo andare Questi armadici Ci posso entrare o no No Perché non posso entrarci Ah mi posso chiudere però Eh però è molto È un gioco molto ordinato Ho ordinato Ma io Che salvo Una combinazione Quanti numeri Ah Perfetto Quindi Ho tipo 700 milioni di Di possibilità Ok 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 E questo No Allora basta Andiamocene Ah l'unica stanza Cioè l'unico pezzo Che ci manca È questo E qui dei vestici O una combinazione O qualunque altra cosa Non c'è niente Ci sono le scale Basta Andiamo su Non dovrei salire E allora Che cazzo faccio qua Ma scusa Di qua Che palle Si è aperto una porta Ragazzi Che cosa brutta Ah No 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 Ok Non c'è niente Il monitor Calica calibrato A 72 Hz 44 Sembra che non sia cambiato Niente 49 Niente 52 Niente E allora Manca solo 60 Cioè Si può fare un cazzo Ragazzi Quindi Scusate Mi sono tolto La confia Mi sembra di sentire Dei rumori Small key Ah vedi Adesso Ho preso una chiave Magari in ogni stanza Trovo la chiave Per andare alla stanza successiva Si potrebbe presumere Esatto Infatti che salvo però Perché non so Quando spunterà il mostro Cosa è sta merdata Qua verde Niente Qui c'è un oggetto Palese Usa gli armadi Qualcosa Qualcosa pare diverso Non mi fa più Qua non posso neanche Ma non ho una chiave E ora che cazzo faccio E allora scendo E allora scendo E allora scendo Mi voglio Se mi voglio Se mi voglio Proveressi nascondere Scusa 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 Perché è diverso Da questo Eh Eh Regia Dimelo tu Ok Va bene Ah ma perché Compaiono le chiave Salva Quanto siamo Sette minuti ragazzi Purtroppo Come vi l'ho già spiegato Devo stopparlo qua Quindi ci vediamo Nella prossima parte Lasciate un mi piace Un commento Ti mettete falso Nella prossima parte E se mi vediamo Sì Ciao Mi chieda calura